Buongiorno a tutti, oggi siamo nella fase di mezzo, tra l'albergo che abbiamo lasciato, quello in cui mi avete sempre visto girare nell'ultimo mese praticamente, e la casa, di cui speriamo di avere le chiavi entro stasera, c'è un albergo di mezzo e quindi essendoci, scusatevi, sono nuovamente raffreddata, essendoci un albergo di mezzo, vi faccio vedere quanto è carina questa stanza, non me l'aspettavo così, non avevo capito che ci fosse anche l'angolo cottura e quindi vi faccio vedere anche il, diciamo facciamo il tour di questa camera, ce la faccio agire alla fotocamera? Sì, allora qui abbiamo l'ingresso con questa porta, vabbè, e qui abbiamo portato, la porta c'è sempre, dice Tommaso, qui abbiamo, abbiamo portato via tutte le, praticamente quasi tutto quello che avevamo nell'altra stand, nell'altra, nell'altro albergo, ci siamo ottenuti solo queste cose, più altre, comunque niente, c'è questo piccolo ingresso, siamo appena arrivati, quindi giusto il tempo di, mio marito ha pranzato, i bambini stanno mangiando adesso e quindi veramente 20 minuti, quindi bisogna ancora sistemare tutto, questa è la roba che parte, diciamo, della dispensa che avevamo di là, dell'altro albergo, cose che magari mi possono servire tra oggi e domani, da questa parte abbiamo uno specchio, uno specchio e da questa parte, senza magari che io cada, vi faccio vedere l'angolo cottura, questa cucina che è veramente fatta bene, tutto nuovo, pulito, sono molto contenta, frigo e freezer, il freezer ovviamente le vuoto e in frigo c'è, giusto veramente qualcosina che mi sono portata, abbiamo cercato chiaramente di svuotare il frigo, avevo giusto qualche birra, le fruttine, le salse, perché sono nuove, non le volevo buttare, un po' di frutta, parmigiano, mozzarella, ieri sera ho preparato della pasta, delle conchiglione con gli asparagi, proprio per oggi a pranzo, in modo da tenerle e poi poterle scaldare, se non ci fosse stato nulla, pazienza, l'avremmo mangiato freddo, purtroppo non sapevamo dove saremmo capitati, allora qui c'è il lavandino, no scusate lo schifo, con il, 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 il tretali fiuti, qua ci sono un po' di supply, sì c'è il tretali fiuti qua, una piccola lavastoviglia, piccolina piccolina, aspetta dopo te lo faccio vedere, la macchina per il caffè, due fuoca di induzione, ci sono cassetti e cassettine, c'è tutto l'occorrente per quattro persone, cosa che nell'altro albergo era tutto per due o tre, lassù ci sono i piatti, un bel microonde, dimmi amore, qua ho preparato stamattina un paio di hamburger che avevo per, per mangiare, qui ci sono i bimbi che stavano mangiando, allora quindi da questa parte, dopo la cucina si apre, vedete, così, ah no aspettate, guardate, c'è l'armadio, c'è il closet qua, che si accende, che è molto carino, sarà stato sistemato un po' tipo a Ikea, era un misto tra Ikea e Ikea, c'è un cuscino in più, ci sono asse da stiro, ferro da stiro, appendiabiti, la sacca per fare il bucato, suppongo, queste sono cose che abbiamo portato, guardate che sta, questo lampadario, c'è una cosa che è sempre voluto, guarda, esatto che non lo faranno, vabbè, di continuo, due letti qui, io ce li ho così dall'alba al tramonto, vabbè, due letti appunto per noi, un tavolo con quattro sedie, pensate, noi abbiamo passato un mese con due sedie, i bambini che mangiavano praticamente per terra, loro stavano mangiando, c'è questa piccola area living, con la poltrona, il puff, esatto, qui c'è la parte di fuori, insomma così, e poi c'è il bagnetto, questo sarà un video, è tutto lg, il marchio sarà lg, che ti devo dire, salve di nuovo, questo è il bagno, il top è uguale al top, giusto, sì, è uguale in bagno e in cucina, questa specie di finto marmo un po' glitterato, molto carino, e vabbè, un water, una doccia, il quadretto, scusate, la vasca, doccia è una parola che poco si conosce, nel senso che la maggioranza chiaramente non la vasca e quindi così, qui cosa abbiamo? Ah, non vi ho detto che nell'albergo dove stavamo prima, dopo qualche giorno, scusate, Leonora che è isterica, che c'è, si stanca, vero? Dopo qualche giorno ci hanno cambiato queste cose che era tutto dove, e qui abbiamo shampoo al tea tree, limone salvia balsamo e limone salvia body wash, qui abbiamo gli asciugamani, insomma un bagno normale, a terra abbiamo, vieni in braccio mamma amore, abbiamo il, ui, oh che pesantezza, il parquet, è una moquette molto carina, rasa, è molto, diciamo che è comoda la moquette ma chiaramente non è il massimo della pulizia, ma questa è abbastanza una novità, cioè non è una novità, è abbastanza risaputo, e va bene, che vi posso dire? Allora, noi siamo in attesa quindi di avere delle belle notizie entrosera, di poter fare il trasloco domani, anche perché onesta, di pagare alberghi non se ne può più, di stare in spazi ridottissimi veramente non se ne può più, siamo arrivati alla frutta, la frutta, il caffè, la mazza caffè, tutto quanto, adesso anche io mi metto a pranzare con i nani, e poi ci riposiamo un po', e mio marito è tornato a lavoro, era passato giusto per aiutarmi, insomma, a fare il millesimo trasloco di mezzo, e basta, e basta, ora ci appunto stiamo connettendo i dispositivi, ho una smart tv, quindi mi metto a guardare qualcosa finalmente anche alla tv, visto che i nani si prendono gli ipad e io non posso vedere mai nulla, e basta, e il prossimo video magari sarà dalla casa nuova, ma avete visto che Leonora ha un sacco di treccine, eh? Guarda, fai vedere quella del ciuffo lungo, ce l'è ancora? Sapete che questo è il suo ciuffo più lungo di tutta la testa? Perché parli come una bimba piccola piccola? Ah, sei un bebè oggi! Ah, papà papà! Ci vediamo presto, un bacione, oggi sarà un video piccolo piccolo, e niente, sono contenta, è molto bella, molto luminosa questa stanza, quindi rispetto al buio che abbiamo passato l'ultimo mese, non vediamo l'ora di avere casa, ah, oggi iniziano gli Amazon Prime Days, io sto riempiendo il carrello, perché ci sono un po' di cose che mi servono e che volevo comprare, e mi sa che ho iniziato durante la notte, durante le insonnie notturne, e mi sa che un'offerta mi è già saltata, perché hanno aggiunto tipo 40 euro di spedizione all'improvviso, ora mi metto a smanettare, un bacione grande, ciao!